Buongiorno amigli, come vedete mi trovo in villeggiatura in montagna, fa molto freddo, ho gli sci, non ve li mostro perché è brutto da vedere e dalle mie montagne vi dico che questo genere di partite, cosa dire, andava sospesa per manifesta inferiorità in queste partite dovrebbero giocare i Totti, Cassano, bisognava fare una deroga per far giocare Cassano, per far giocare Totti, Del Piero queste partite qua le rende interessanti mettendo una deroga per far giocare le vecchie glorie, ma anche Baggio, anche Riva volendo, poteva giocare questa partita cosa dire, l'unica cosa che mi sento di dire è bene Spinazzola, me ne torno a sciare, ciao ragazzi